Si chiude oggi una magnifica settimana dedicata alla musica Milazzo. Nella splendida cornice del castello si è tenuto il festival corale internazionale in canto mediterraneo. La manifestazione è giunta alla sua settima edizione, organizzata dall'associazione corale Cantica Nova con cadenza biennale, è ormai diventata un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della buona musica. Abbiamo avuto un'ottima risposta da cori dall'estero e anche da cori siciliani che hanno accolto con entusiasmo la ripartenza in questo settore che è stato come tutti i settori dello spettacolo mortificato dalle condizioni Covid. Siamo ripartiti e già questa è stata una cosa molto bella e importante per tutti. In questa edizione abbiamo avuto la presenza di un coro tedesco, studio vocale Karlsruhe, poi un coro scolastico brasiliano che ha cantato il martedì e poi i cori in competizione che canteranno anche domani e dopodomani dalla Slovacchia il coro Apollo, dalla Slovenia il coro Crescendo e dall'Ungheria il coro maschile Bela Bartok. È una manifestazione che ha anche una grandissima valenza turistica per Milazzo. Quanti sono le persone che sono arrivate in città? Circa 300 che si sono alternate nelle varie giornate, chi si è fermato tre giorni, chi cinque giorni, chi un po' di più finisce il festival e dormiranno altre due o tre notti per godere delle bellezze della Sicilia con delle escursioni anche fuori provincia. Parliamo della prossima edizione, non sarà fra due anni come in genere si fa, ma fra un anno. Sì, perché il festival è a cadenza biennale, ma siccome abbiamo rinviato l'edizione del 2021 vogliamo recuperare sulla biennalità facendo l'edizione del 2023, quindi dal 9 al 15 luglio del 2023.